Siamo con Pietro Orru, sindaco di Vilminore di Scalve, nonché presidente della comunità montana della Val di Scalve. Sembrava che il coronavirus non arrivasse in queste zone così belle, così incontaminate, invece c'è necessità anche qui di supportare questa emergenza. Un'emergenza che state gestendo addirittura con dei medici militari, proprio perché i medici di base sono tutti ammalati. Ci racconti un po' come sta andando e come supportate la cittadinanza. Il fatto dei medici militari è sicuramente stata manna dal cielo, perché la dimostrazione che anche i medici di base si ammalino è proprio il fatto che nessuno è immune al virus, non c'è un luogo, non c'è una persona che lo è. Quindi fortunatamente c'è stato mandato questo aiuto che permette di supportare tutta la cittadinanza della Val di Scalve che man mano si sta ammalando, chi per l'influenza normale stagionale e chi invece purtroppo contrae il virus ormai arcinoto del Covid-19 e quindi riusciamo a gestirli un po' telefonicamente, mentre i casi più gravi vengono portati qui, visitati e poi eventualmente trasportati in ospedale. Sappiamo che è fondamentale anche il contributo dei numerosi volontari che hanno risposto all'appello e che contribuiscono appunto a gestire questa situazione. Se non avessimo avuto i volontari, onestamente non so cosa avremmo potuto fare di più di così, perché effettivamente già da quando è iniziata l'emergenza, soprattutto nella zona della Val Seriana, centrale, c'è stato portato via il personale del 118. Pertanto con tutti i volontari di Croce Rossa ci si è riorganizzati per poter adeguare il servizio e garantire la continuità assistenziale a tutti i cittadini della Val di Scalve. Il grosso applauso a emergenza finita andrà soprattutto, anzi esclusivamente, a loro. È un po' presto per fare delle previsioni, ma lei che scenario ha davanti agli occhi? Beh, è ipotizzabile che essendo arrivato un po' dopo da noi l'emergenza sanitaria, probabilmente finirà anche dopo. Io mi auguro che finisca tutto nel giro di un paio di settimane, però purtroppo se guardo i numeri e guardo le persone, sentendo quelli che mi dicono che sono malati sul territorio, mi aspetto che ci vorrà ancora diverso tempo. Spero però che tutte le persone ne possano uscire nella miglior maniera possibile. Operativa, appunto, anche la protezione civile qui in Val di Scalve è una realtà importante, diciamo, tutto l'anno, ma in questa emergenza la vostra presenza è davvero determinante. Come state operando qui a Vilminore? Sì, dal momento che i quattro comuni della Val di Scalve hanno attivato i COC, hanno interpellato anche noi come protezione civile e stiamo dando un contributo tramite, appunto, anche il sindaco di Vilminore, nonché il presidente della comunità montana. Ci ha chiesto la disponibilità di alloggiare, diciamo, di presidiare una sala che è alle nostre spalle, dove noi facciamo dei turni tutti i giorni e riceviamo le telefonate delle persone che devono richiedere delle ricette mediche. Quindi il nostro turno si svolge dalle 8 e mezza alle 12 e dalle 14 alle 17. C'è sempre una persona fissa all'interno della sede e un'altra persona dislocata qua sotto che serve a far confluire le persone che devono poi entrare in ambulatorio. Volontari, quelli del primo soccorso, se possiamo così definirvi, fondamentali in questa emergenza, soprattutto nei territori di montagna che sono quindi distanti dagli ospedali e dagli altri presidi. Come state affrontando anche per voi, insomma, l'emergenza? Allora, non è semplice, anzi, per noi è una novità, perché nessuno pensava in epidemie del genere, eppure anche nella nostra piccola valle è arrivata. Affrontiamo la giornata facendo turni di 24 ore e siamo riusciti con tutti i volontari a affrontare il turno di 24 ore perché sennò eravamo senza ambulanza in Val di Scalve, perché l'ambulanza di ruolo che faceva l'H24 qua in valle l'hanno spostata verso Clusone. Affrontiamo la giornata, purtroppo anche qua i casi ce ne sono, non sono gravissimi, però cominciano anche qua i primi morti. Ecco, diciamo, i pazienti, gli utenti che voi vedete, perché voi siete i primi che li incontrate, come stanno? C'è preoccupazione? Si vive un po' di disagio? Allora sì, soprattutto nelle persone un po' su d'età vediamo ansia, paura, c'è il problema che anche gli ospedali fanno fatica a gestire la situazione perché sono prossimi al collasso, anche quelli. cerchiamo di rincuorarli cercando di stimolare il discorso di non uscire di casa, sperandone bene, sperando che pian piano vada un po' a calmarsi la situazione. Abbiamo un'idea dei numeri delle persone che hanno avuto bisogno del lavoro che fate voi nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni quando l'emergenza poi esplosa? Allora, numeri certi non ne abbiamo perché diciamo che siamo tutti, tra virgolette, positivi. Ormai non è più come prima che si esce su un caso accertato, si esce anche su uno che ha rotto la gamba, può essere positivo perché non ha sintomi e robe varie. Diciamo che qua in valle si fanno dalle 3 alle 5 uscite tutti i giorni, cose che invece si facevano una volta al mese, certe uscite, quindi è aumentato, sono tutti per malori. Ricoveri in ospedale di questi, quanti ne necessitano più o meno? Allora, diciamo che inizia con 2-3 persone su 10 che hanno bisogno di ricovero ospedaliero, però le cose vanno a propagarsi in avanti perché pian piano questo virus va a peggiorare la situazione delle vie aeree. Vediamo su questa giacca anche il simbolo del soccorso alpino che è importante in questa emergenza, lo conosciamo per gli interventi in territorio montano ma anche per gli interventi in ambito sanitario. Che supporto state dando in questo senso? In questo momento stiamo dando supporto all'organizzazione, alla protezione civile, sia come centralino, sia come predisposizione delle ricette e siamo comunque a disposizione di Croce Rossa avendo una parte della nostra formazione sanitaria. Essendo un momento abbastanza difficile diventa importante avere volontari che possono intervenire in più situazioni sperando di non dover intervenire in montagna in questo momento perché diventerebbe complicato e impegnativo intervenire a livello sanitario e anche successivamente poi per riuscire a trovare un posto al paziente. Ecco, quindi lanciamo un appello chiaro. Sono belle giornate, abbiamo tutti voglia di aria fresca ma non è il caso di spostarsi in montagna. No, assolutamente no. La montagna, le forre, qualunque altra attività fisica che può avere un risvolto pericoloso è opportuno non farla. Le montagne ci saranno ancora anche quando questa cosa sarà finita come ci saranno i fiumi, come ci saranno tutte le altre attività. L'importante adesso è cercare di non muoverci, fare magari esercizio in casa per mantenersi in forma ma è importante non muoversi fuori casa.